E' una bocciatura a 360 gradi quella del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che critica aspramente la gestione della città di Pescara da parte dell'amministrazione Masci. Buche, abbiamo riscontrato e mappato delle vere voragini sulle strade. Manto stradale sembra quasi come se si fosse bombardato e questo provoca danni enormi per l'incolumità dei nostri cittadini ma non solo, anche e soprattutto nelle aree pedonali, udite udite, nella centralissima Corso Umberto. Qui passiamo al problema della sporcizia decorurbano. Decorurbano è una città sporca, una città che ha siepi dappertutto, parchi pubblici sporchi. Purtroppo c'è tanta inciviltà e qui ho proposto di intensificare le fototrappole. Fototrappole ma non solo, anche incaricare la polizia locale appiedata a fare multe agli civili che rendono questa città a volte una pattumiera. Andiamo sul discorso della viabilità. Viale Marconi è l'operazione politicamente più scellerata che abbia potuto fare un'amministrazione comunale, ma non solo, anche gli allagamenti ogni volta che piove, soprattutto nella zona di Porta Nuova, si crea una situazione indescrivibile. A pensare che sono stati fatti lavori idraulici, che non hanno risolto davvero quel problema. Insicurezza, una città gravemente insicura. Oltre alle piazze di spaccio delle nostre periferie, di cui abbiamo sempre parlato e ci siamo sempre occupati di combattere la criminalità a testa alta e con la schiena dritta, davvero abbiamo nella centralissima città il famigerato quadrilatero che va Corso Vittorio Emanuele, Via Quarto dei Mille, Via Diamicis, Piazza Santa Caterina, dove balordi, spacciatori di droga, criminali, infastidiscono i nostri commercianti, i cittadini. Per qualche settimana hanno messo dei vigili appiedati, poi li hanno tolti e finito anche lì. L'area di risulta è pericolosissima. Il consigliere Pentastellato è tornato poi a parlare della nuova costruzione della sede della regione nelle zone dell'area di risulta, condannando la decisione, parlando di uno spreco economico per l'inutilizzo dei due palazzi della giunta regionale in Viale Bovio e in Viale Raffaello. Quei palazzi si potrebbero ristrutturare, spendere molto meno e risolvere davvero i problemi del nuovo palazzo della regione. L'area di risulta dovrebbe diventare un grande polo attrattivo per attrarre i nostri turisti, cullarli e portarli a visitare la città.